Allora io sono Marcus Grone, signore e signori bentornati nella All The Mod Nell'ultima puntata abbiamo fatto semplicemente il magazzino e devo dire che mi è piaciuto Io l'ho implementato con tutte cose, l'ho spostato quindi E qui abbiamo le cose della natura, qui abbiamo le cose che ancora non ci sono Qui abbiamo tutti i nostri blocchi, qui abbiamo... Uh, uh, Missing Quartz... Bono! Bono, buonissimo! Davvero, davvero molto ottimo Allora, ho aggiornato il pack E mi ha dato grossi problemi Cazzo che pioggia Ah, ho messo quest'altra porta, magari vi piace di più? Non lo so, vi piace di più? Boh, fatevelo sapere nei commenti E ho fatto tutto quello che mi avete detto Vedete che va a 60 fps, raga? Il problema non sono gli fps Il problema è che ogni tanto sto pacchetto Avendoci un botto di roba Tira delle frizzate incredibili Però per il resto non va a scatti Cioè, nel senso, vedete, 60, 60, guardate, 60 60, 60 Inoltre ho aggiunto Una texture pack Semplice semplice Che riprende la vanilla E la fa, diciamo, un po' più in alta risoluzione Quindi, invece che 8x8 di pixel Sono 16x16 Se non sbaglio Si chiama Faithful La dovreste conoscere tutti quanti E noi non abbiamo energia Mannaggia La paperella muscia Non abbiamo energia Perché effettivamente Ah, c'era un'altra cosa Che volevo sfatarvi Volevo sfatarvi Però prendiamo Ah, aspetta, aspetta, aspetta Andiamo con l'ordine Ho avuto questo problema Quando ho aggiornato il pack Praticamente il miner Della progressive Mi dava noie Mi faceva crashare il pack Come ho risolto Togliando la progressive Ragazzotti Sono molto, molto, molto Sorry Ma ho dovuto togliere La progressive Ammazza quanto ciucci Ma è possibile? Ma ciucci ha un cifro Sto coso Ciucci ha un cifro Va bene, va bene, va bene Va bene, va bene Intanto fuori c'è un temporale Quindi non abbiamo più la progressive Non posso più scavare In early game Con il miner Non posso più cioppare In early game Con il chopper Sono molto, molto triste Però è divertente Perché questo ci, diciamo Ci costringe A usare le mod Che non conoscevamo Perché comunque La progressive L'avevamo usata Nella shifty craft Allora Io qui Mi ero puntato A parte il solar panel Ah no Il solar panel come si faceva No, col diamante Io ancora non ho trovato diamanti Ho scavato un pochino Questo fregno qua Questo fregno qua Vuole esclusivamente Dimmi che c'ho la redstone Yes Il ferrolo E qualche cosa di Anori Ora ogni volta dovremmo fare Su e giù ragazzotti Non picchiatevi Mi prego Non mi dispiace No, che è questa? Che figo Ma me la duplica Ma io non lo sapevo Perché la polvere di quarzo Non me la manda qui dentro Di bauxite Sono molto, molto triste Ho fatto questo sistema Pseudo automatico Ma va bene Allora Allora Sapete che ho fatto? Ho tolto tutto E ho tolto le crafting table Sono un babbeoide Dove sono le mie crafting table? Eccole qua Io direi che Una la possiamo mettere qua O per là E un'altra La mettiamo di qui Così ogni volta Non facciamo troppe volte Su e giù Allora Noi vogliamo fare Il hit Hit, hit, hit Eccolo qua Collector Ci serve questo fregno Qui quindi Blocco di redstone E black quartz Il blocco di redstone Deve essere modificato Inoltre Se non sbaglio C'era qualcosa di particolare Che era questo qui Enori Quindi un pezzo di ferro Mi diventa quella stellina strana Vediamo un po' Magia Signori Eccola qua Fantastico Abbiamo fatto la magia La magia La magia Allora Tututututututututu Sei pezzi di black quartz Fantastico Quindi bam 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 E facciamo Questo qui stupido Inoltre ci serve Vieni qui da papattuo Ci serve di modificarlo Per renderlo più blabloso Vediamo se ho dell'oro La risposta è yes Incredibile amici Ho tutto Potrebbe non essere così Però invece credo sia proprio così Facciamo un altro pochino Nel momento in cui abbiamo questo Ragazzi abbiamo Un'energia fissa 40 RF Gratis Quindi già diventa fantasticissima La cosa Abbiamo bisogno di questo Ci mancano gli stick Molto semplici Andiamo a prenderli Oppela Oppela E No ma il mio quarzolo L'ho lasciato di qua al solo Ok Ce la facciamo 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 Il repeater Redstone repeater Va bene con qualsiasi cosa Anche con la diorite Ma questa roba è meravigliosa Che di diorite c'è un 80 E onestamente Non ce faccio un cazzo E due torce di redstone Che dovrei avere Mamma mau Mamma sua Mamma tua Mamma essa Mamma vostra Infine facciamo le iron bar Aiuto quanto ferro sta sprecando E ragazzotti Ce l'abbiamo Ce lo abbiamo Ora Questo fregno Se non ho capito male Deve essere Surrendato Da almeno Quattro Lava block Ok Directly around it On a side Except the top bot Quindi Se io voglio Fare Il giochino magnifico Maggifico Devo per forza Fare Uno Due Tre E sotto Quattro Sperando che non prenda fuoco Questo legno Quindi Qui la lava Qui la lava Qui la lava E ci dovremmo essere Ragazzi io sto facendo Sto andando a tentativi Ed errori Con questo pacchetto Perché lo stiamo proprio esplorando Allora Un Zecchiello Io non ho visto il mio secchiello Dove è finito Oh Non mi dica Stava dentro il coso No L'ho perso Ho perso Il mio secchiello Merda Devo rifarlo Altro ferro Che se ne va Altro ferro Che se ne va Allora Un'altra cosa importante Oh cazzo Chi è che ci ha tirato La frecciozza Aio Ma come fai A vedere Da là Brutta porta Guarda 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 Ma tu sei scema Aio Ma mori Aio Ma 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 Scusate Ragazzi scusate C'è un qui qua qua Va bene Allora Dove Moriremo tutti Moriremo tutti C'era un po' di lava Se non sbaglio Yes Ah ma io avevo la cosa La Tanicuzza Ma ricordate Ritorniamo a casa un attimo Tanicuzza Tanicuzza Ce l'avevo di qua Ah ho capito Come funziona Il fatto del cibo Grazie a tutti i pericobbetti Che però Dovete sapere che io Leggo magari a distanza Di una o due puntate Quindi non va A prendere se non ve Non vi rispondo subito State scianti Anzi Ok Eccola qua Quanti bicchieri ci stanno Non me lo dice Non me lo sta dicendo Ma va bene lo stesso Allora Questa qui Mamma mia Adesso spacca tutto Guarda Facciamo così Questa qui E questo qui Questa qui E questa qui Vediamo se funziona Oh my god Oh my god Si Sta producendo energia Ragazzi Sta producendo Energia Finalmente Posso grindare le cose Senza metterci il legno Del cazzo Ora Ma Questa mod Ce l'ha un metodo Per portare L'energia In giro Un solo Block that use Block che genera Block che usano Misce O tutti Tutti i cosi Vediamo RF Tesla Non ci interessa Sapete che non credo Mi pare che ci fosse Un metodo Wireless Che però Non credo che ancora Ci possiamo permettere Quindi vediamo un po' Di scrivere Energy Overworld Energy Pedestral Cos'è sta figata La Bissalcraft D'accordo Gli Energy Conduct Della Eeeh Dobbiamo fare Nella Ice Belter Merda Vediamo se c'è Eccoli qua Uh Ma si fanno Si fanno facile No Ossidiana Io non ho il diamante Non ho il diamante Questa cosa è Terribile Non ho il diamante Energy Si chiamo Cable 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 Uh Ci stanno quelli Dell'immersive Attenzione Quelli dell'immersive Potrebbero fare Al caso nostro Vediamo un po' Mi deve fare Che si chiamassero Coil Yes Sono fattibili Serve il copper wire Servono queste Sembra di sì Però Che cos'è il Tesla coil Io lo voglio Tesla coil Però c'era non anche Un'altra cosa Immersive C'era un'altra cosa Il cappetto Questo qui Che si fa con L'hardened clay E il copper Mmm Non so se riusciremo A farlo adesso Perché non Non credo di avere clay L'ho messa tutta A fare i mattoncini Vero? Z Z Z No Un zedino C'è un modo Per ripolverizzare Sì Nell'injection chamber Però Vaffanculo Marco Scron E va bene Non fa niente Voglio fare Una cosa che ho detto Tanto tempo fa Voglio fare Il player sensor Lo so che costa Ferro Lo so che costa Redstone Ma devo Assolutamente Farlo Perché è bellissimo Allora Badabim Ne facciamo Due Per farvi vedere La magia Allora io lo metto qui Chiuditi Guardate Cioè ragazzi Si apre Quando percepisce Allora normalmente Questa porta Anche se È sottile Tu non ci puoi andare così No? Vedi? Ok Lui Vede che ci sto Si apre E si richiude subito dopo Come una player Una plessual plate Però Non si Non possono essere schiacciati Cioè soltanto il player E anche se Di qua Io sto di qua Lui mi vede E la apre Quindi Ragazzi Meraviglia E io ho finito il ferro Che fa sta cazzata Ragazzi Però sono molto 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 contento Dovremmo andare A cercare Vediamo un po' qui Guarda Guarda l'energia Però sta roba Non la prende Perché l'uranio Non gli piace Ah no? Dove la sta mettendo? Eccolo 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 Uh ma qui c'ho Un po' di ferro Un po' di Un po' di cronium Boxeater Perché la boxeater Non me l'hai fatta Brutto bagarospo Che non gli piace Ah un'altra cosa Che vi volevo dire Lo so che qui c'è Scritto grid power 02 Però ragazzotti Non funziona così Ah no Io È stupido Oh cazzo è notte Era notte Non si vedeva Bucio de culo Fessa pareva Perché anche con La potenza Di questi Tutti accesi Di cui ne ho giutti tre E il coso Il generatore Quello a lava Non funziona Mi dispiace Sono molto 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 triste Adesso devo ricordarmi Che la porta principale È qua Chissà se il sensor Funziona anche con questa Non credo Fammi No si è rotto Si è rotto Fatemi vedere Dove lo potrei mettere Ehi sono qui Oh merda Sì No Qui Qui non si attacca Ehi sono qui Guarda No ragazzi Il portone grande Si deve aprire a mano Però questa cosa È stre P To Sa Davvero Ah è vero Adesso ho Ho energia quasi gratuita Posso fare altra stun Perché ho fatto un po' di stun Qui perché non mi andate Fasti così Sono brutti effettivamente Però ho finito l'energias E senza il chopper Ragazzi Sono un po' povero Quindi devo dire Che sto molto 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 Messo bene Direi che nella prossima puntata Andiamo alla ricerca All'esplorazione Di un po' di clay E andiamo a vedere Se riusciamo a trovare Qualche moddina nuova A provare qualche moddina nuova Signori Questa serie Vi piace tantissimo Perché sono Impreparato Ed è una sensazione Davvero davvero magnifica Bella per voi